Ho avuto l'onore di mixare l'ultimo album di Baby Gang, L'Angelo del Male e di Simbala Roo, Tunnel. Ciao a tutti, sono Vincenzo Scognamiglio, mixing engineer che ha collaborato con Baby Gang, Simbala Roo e Rock Quant. Sono entusiasta di presentarvi il mio nuovo videocorso specifico sul mix delle voci trap moderne. Vi mostrerò come ho lavorato sulle voci di tre grandi rapper, Janji Leon, Jack the Smoker e Danny Five, mostrandovi trattamenti che utilizzo solitamente per mixare i brani di artisti importanti come quelli citati in precedenza. Vi guiderò attraverso tutte le fasi del mix delle voci, dall'editing delle voci all'uso dell'ho-fi di Pro Tools e alla pulizia con equalizzatori digitali. Vi insegnerò a controllare le simbilanti con il de-hessing, a usare la compressione digitale e colorata per ottenere voci sempre presenti e ben definite e a dare chiarezza alla voce e presenza senza ottenere un suono harsh o fastidioso. Se vuoi portare il mix delle voci ad un livello successivo, questo è il corso che fa per te.